I nuovi positivi in provincia di Arezzo sono 1.170 nelle ultime 24 ore. In tutta la ASL toscana sud-est, cioè nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, sono quasi 2.500. Per fortuna non mancano anche i guariti, sono 1.030, ma purtroppo nelle ultime 24 ore ci sono stati anche due decessi, uno ad Arezzo, un uomo di 74 anni, e uno a Grosseto, un uomo di 84. Tornano invece a salire i pazienti ricoverati all'ospedale San Donato, 46 coloro che sono ricoverati in bolla Covid, circa il 65% di loro non è vaccinato, 11 coloro che sono invece ricoverati in terapia intensiva, il 70% di loro non è vaccinato. Venendo ai numeri comune per comune, ovviamente è sempre Arezzo ad avere il dato più alto con 379 nuovi positivi, seguito in questo caso dal comune di Cortona con 65 positivi e quello di San Giovanni Valdarno con 64.